Nel cuore di Fondi, miscelato a dovere all'anima del nostro centro storico, nasce il Ristopab Zio Benny. La birra più fresca e gustosa e le bevande selezionate ad arte accompagnano i piatti di carne, i panini e le pietanze tipiche dal sapore insuperabile. Ristopab Zio Benny, grande inaugurazione giovedì 14 novembre alle ore 20, con le note live della band Lily Marlen, vi aspetta in via Garibaldi 14 nel cuore di Fondi. Non mancate!